La procura ha impiegato parecchio tempio a svolgere le indagini e purtroppo non sono stati fatti tutti quegli approfondimenti che la difesa ritiene necessari. In attesa dei risultati dell'autopsia sul corpo di Sissi Trovato, che verrà svolta sabato prossimo al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, la procura di Venezia sta ultimando gli accertamenti richiesti dai legali della famiglia della giovane agente della polizia penitenziaria, gli avvocati Fabio Anselmo, Maria Sicari e Girolamo Albanese. Approfondimenti tecnici e scientifici che dovrebbero dare un quadro più chiaro sul ferimento della ragazza avvenuto l'1 febbraio 2016 nell'ospedale civile di Venezia. La famiglia Trovato infatti non ha mai creduto all'ipotesi del suicidio. Il GIP ha accolto la richiesta di opposizione da parte della difesa disponendo alcuni importanti accertamenti, sia per quanto riguarda le tracce ematiche sull'arma e considerata l'assenza di tracce sul vivo di volata, la verificazione della compatibilità con uno sparo a contatto con la testa, delle tracce di DNA sulla pistola che veniva impugnata da Sissi o eventualmente dall'aggressore, come sostiene la difesa, oppure se la pistola sia stata addirittura eventualmente ripurita. Tra i tanti punti oscuri della vicenda ci sono l'arma della giovane e il suo cellulare. L'arma poteva rinvenirsi in mano oppure se l'arma doveva cadere all'interno degli ambienti in cui è avvenuto questo evento. Il GIP ha disposto anche l'acquisizione delle liste celle legate ai tabulati telefonici del telefono di Sissi ed eventualmente l'individuazione di altri numeri di telefono intestati a Sissi. Spunta infine anche un presunto testimone la cui identità ad oggi rimane ignota. Un infermiere che si trovava in uno dei piani pare abbia potuto sentire qualcosa di sospetto e si è avvicinato alle ascensori che non è mai stato individuato e che quindi noi riteniamo che deve essere sentito. Francesco Altomonte per la Cineus 24